Bella a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ritorno in gara dopo sei mesi Sei mesi? Che sono stata ferma con Pat Siamo alla scuderia Leondoro E adesso andiamo a trovare Pat Andiamo Che gara farai oggi? La 100 La classifica con Pat L'administrativa? Sì Questo è il primo giorno di gare Io sono appena arrivato Cos'è? Ho sbamato Ti ha baciato? Ti ha dato un bacino E ci guarda Per impatto Per rire Per rire Che denti gialli però Doveva lavare i denti È vero? Vabbè Visto che è un po' carico lo giriamo la corda Vai facciamo fare un giro di corda Vabbè Quando gira Quando gira ti guarda Quando gira ti guarda Centro a centro la strada che fa il cavallo Quanto manca? Il campo l'hai visto? Il campo l'hai visto? Sì Com'è complicato? No 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 Quanti salti? 12 Come a casa? A casa ne abbiamo fatti 13 Vabbè Lo ripeti? Lo ricordi? Allora Ehi vabbè ma come faccio a dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ti ricordi? I galoppi? Allora 1, 2, 3 erano 7 galoppi calmi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ok Ce la possiamo fare? Sì ma non è difficile Fatta cosa dice? Fatta sembrano dei capelli Va che bella cosa che c'ha Senti tocca Passo una mano così E rilassata Bello No fai così Non c'è neanche un nodo Vero Vero Hai tosato? Sì È diventato più scuro Sì Ti fa ti alzerà sui piedi Bravo Vero Grazie a tutti. 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 Oggi è a tutti. 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 a tutti.